Dice Confucio, se pensi in termini di anni, planta un riso, se pensi in termini di decenni, planta alberi, se pensi in termini di centinaia d'anni, insegna alla gente. Dopo termine di regno a Ferrara, l'Istituto Italiano di Pentecultura, terrà un TBC di 70 d'ore, passo la fattoria Margherita di Melania Bartelli a Minganino in via Colombara. E' un'azienda agricola certificata biologica da più di vent'anni che si sta convertendo alla permacultura. Sarà un corso tecnologico in design permacultura, certificato dal PRI Australia e riconosciuto in tutto il mondo. L'Istituto Italiano Pietro, del PRI Australia, coinvolgato dal grande signore del muro della Cascina Buffier e dal fantastico maduro Zetti Cardenas, specializzato in sistemi agroforestali e nuova forterizzazione. Ci vediamo attività tecnologiche e pratiche come l'Action Learning, il SADMAP, il processo di design australiano e per un'attività pratica la gestione dell'acqua, la costruzione di un laghetto, la realizzazione di suoni dei canali, mani e poterla ed un livello al cucio. Per le ultime informazioni, permacultura.net